Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Shikoden V ed oggi facciamo una side quest, letteralmente, che penso occuperà forse tutto l'episodio, non ne sono ancora sicuro ma probabilmente sì, dove avremo la possibilità di avere il primo contatto con Oboro. Perché vi dico questo? E soprattutto perché è importante farla adesso? Perché questa è una finestra di tempo utilissima, tra l'altro non so neanche se si potrà fare dopo questa finestra, perché noi ora come ora dovremmo parlare con Lucrezia di tutto quello che è successo, ma vi veramente vi ricordo, soprattutto vi dico con schiettezza, di fare questa missione prima di parlare con Lucrezia, perché altrimenti avreste la possibilità di perdere il primo contatto. definitivamente questo percorso e quindi perdere praticamente i personaggi che andremo praticamente a reclutare ad ora. Quindi, cosa bisogna fare? Appena arrivati a Rainwall, andare subito all'agenzia Detectivo Boro, ecco qua. Ancora non c'è? Strano, dovrebbe esserci. Ma lui dovrebbe essere già tornato. Aspettate. Wow, aspetta, non mi ricordavo potesse succedere. Un secondo. Proviamo a uscire e rientrare, perché... Ok. Perché il fatto che non ci sia... Oddio, non vorrei aver fatto io una cagata. Oddio, veramente non vorrei aver fatto una cagata. Ma lui dovrebbe esserci adesso. Perché non c'è? Forse perché era uscito prima? Quindi forse l'ho perso, effettivamente. Devo ricaricare il salvataggio prima, forse. Aspettate, ci provo. Niente, per ora Oboro non è spuntato, per cui provo ad andare leggermente avanti con la storia, anche se in realtà non mi era mai successa questa cosa, perché Oboro mi ricordo appunto di poterci parlare subito dopo Raftfleet, però potrei avere anche io la memoria un po' con gli anni, giustamente, non avendolo giocato spesso e volentieri, potrei effettivamente ricordare male. Vostra altezza reale, lasciate che vi porca le mie più vive congratulazioni per questa magnifica vittoria. Le notizie dell'incredibile successo di vostra altezza si sono già sparse in tutta Rainwall. Avete reclutato Lady Merces come vostro stratega, scacciato il generale Luger e stretto l'alleanza con Raftfleet. Tutto questo in un sol colpo. Erbacco, ottimo lavoro, fantastico, sono davvero molto, molto fiero di voi. E di cosa dovreste esserne tanto fiere esattamente? Ah, Lord Burrows, piacere, sono Kisara, di Raftfleet, il vostro nuovo e fiero alleato. Sono qui per conto di Raja, è un piacere incontrarvi, Lord Burrows. Oh no, Raja ha scelto davvero una stupenda rappresentante, perbacco, il piacere è tutto mio, davvero. Dunque, Raftfleet ha sconfitto il grande generale Luger, eh? Con un alleato tanto forte mi sento molto sicuro. Oh, ma non è stata Raftfleet da sola, non ce l'avremmo fatta senza l'aiuto del principe di Lucrezia. È bello rivedervi, Lord Burrows. Oh, oh, bene bene, ecco la deliziosa Lady Merces. La vostra bellezza è rimasta intatta negli anni. Oh, la vostra incarcerazione non mi ha fatto dormire per notti intere, ma pare che non vi abbiano uciuto affatto. Vi ringrazio molto, Lord Burrows. Lord Burrows, anche se tutti noi abbiamo origini e storie diverse, siamo stati riuniti da un solo uomo. Quest'uomo è il principe. Propongo di mettere da parte i nostri interessi e di appoggiare totalmente la sua causa. Ah, ovviamente, certo. Sapete benissimo che la mia fedeltà verso sua altezza e il principe è totale. L'ho servito sempre con umile devozione e continuerò a farlo. Tutti che ridono. Bene, adesso saranno pronte le vostre stanze. Fino ad allora, miei prodi, rilassatevi, prego. Ok, e qui adesso siamo praticamente liberi. Proviamo adesso ad andare da Oboro. Vediamo se dopo questo piccolo filmato, adesso praticamente posso andare ad incontrare questo maledetto infame. Più che altro lo vorrei fare adesso perché dopo se dovessi saltare questa parte diventerebbe più difficile reclutarlo. Quindi io preferirei farlo subito in modo tale da non avere poi lo sbattimento di doverlo andare a cercare in tutti i porti praticamente della città. Quindi vediamo se è tornato ora. Forse sta bichellorando in giro. Ma veramente che pezzo di merda. Ma veramente uno stronzo. Non so se è randomica sta cosa perché cioè potrei provare anche a fare entra e esci fino a quando non lo becco, però non me lo ricordo se era randomico. Allora, proviamo ad andare un altro po' avanti. Vediamo cosa mi dice Leon. Lucrezia è incredibile da tutti i punti di vista. Eh sì, è incredibile. È bella, intelligente, è spietata. Ha tutte le qualità per essere una waifu totale. Anche lei. In mezzo a tutte le altre che ci sono già nel gioco. Però, vabbè, piccolo particolare. Va bene, andiamo a parlare con gli altri. Però non parliamo con Lucrezia. Vediamo un attimo se c'è qualche altra scena che possiamo sbloccare. Hai lottato come il dio della guerra, sono stati prego. Riposti nella stanza su di sopra. Ce l'ho fatta. Che vittoria. Va bene, allora andiamoci a riposare. Facciamo passare questa sessione di partita. Umile devozione? Da quella vecchia volpe? Come no! Oh, mi duole vedere la mia signora dover avere a che fare con un buffone del genere. È una strategia classica. Tieni vicino i tuoi amici, ma ancora più vicino i tuoi nemici. Vero, Lucrezia? Pensa pure ciò che vuoi. Ma stavo pensando una cosa. Leon, pericolo in vista? Oh, no signora, no. Non sento nessuno. Vostra altezza, vorrei scoprire la verità dietro la rivolta di Lord Lake. Lord Burroughs sta nascondendo qualcosa di importante. Me lo sento. Già, lo pensavo anch'io. Ma siamo stati a Lord Lake molte volte. Sembra che Burroughs non c'entri niente. No, la risposta non sta solo a Lord Lake. In fondo i ribelli sono arrivati fino al Palazzo d'Oriente. Ufficialmente i soldati di Burroughs sono stati sopraffatti dall'enorme folla di rivoltosi. Io però mi domando come sia andata veramente. Ma non sarebbe difficile per noi andare a spiare in giro? Burroughs si accorgerebbe che c'è qualcosa che bolla in pendola. Non sarebbe difficile con l'aiuto di un detective professionista? Ah, ecco. Un detective, eh? Sì. Qualcuno è in grado di scovare gli scheletri negli armati di chiunque. Si chiama Oboro. Ah, forse dovevo sbloccarlo qua. Oboro, lo conosco. Il suo ufficio è in realtà una nave, perciò viene spesso a Raftfleet. Ha appena risolto un caso, perciò adesso dovrebbe essere libero. Vostra Altezza, devo dire a mio marito e a mia figlia di accordarsi con lui? No. Oboro è un alleato molto importante, per questo penso che voi, Altezza, dovreste incontrarlo di persona. Di solito è ormeggiato in qualche porto, quindi potrebbe essere qui in città. Perché non è andato a vedere? Ah, vedi, forse effettivamente devo andarci adesso a fare tutta la prima parte di Oboro. Lucrezia. Sì? Devo sapere una cosa. Perché è stato aiutando mia nipote? È per redimervi da quello che avete fatto? No. In fondo ho solo ritardato ciò che doveva accadere per due anni, ma penso comunque di aver fatto la cosa giusta. e sono diventata lo stratega del principe perché anche in questo caso è la cosa giusta da fare. Tutto qua. Maledetta. Ti odio con tutta me stessa, lo sai, Lucrezia? Però adesso mi sento un po' meglio. E a mio nipote serve la tua abilità. Ti prego, aiutalo, Lucrezia. Lo farò. Ok. Allora, andiamo dal nostro piccolo Oboro. Vediamo se effettivamente adesso lo potevo fare. Perché mi ricordavo... Però non mi ricordavo questa... Non mi ricordavo questo dialogo, sinceramente. Cioè, non me lo ricordavo fossero loro a presentarmi Oboro. Mi ricordavo di fare una quest e poi dopo usarlo, diciamo, per trama. Oh, principe, benvenuto. Detective, Detective Oboro, c'è il principe. Ok, ok, arrivo. Salve, salve. Benvenuto nella nostra agenzia. Ecco il mio biglietto da visita. Oh, Oboro, dell'agenzia di Detective Oboro. Ma a che serve quel pezzo di carta? È il mio biglietto da visita. Ma non ne avete mai visto uno? Li ho inventati io. Credo che siano molto eleganti. Ma non quanto speravo. Ah, sono... Eh, già, sono eleganti, davvero. Detective, basta con le chiacchiere. Parliamo di lavoro. Ah, sì, mi sa che hai ragione. Vediamo un po'. Come possiamo aiutarvi allora? Da questa parte, prego. Interessante. Vorreste che noi indagassimo su cosa avesse intenzione di fare Lord Burroughs al tempo della rivolta di Lord Lake? Si tratta di questo, eh? Sì, potete farlo? Ma certo, come al solito scopriremo le sporche trame di Lord Burroughs in men che non si dica. Sicuro, Detective, sono passati due anni dalla rivolta. Pensate davvero che possiamo farcela? Certo, per noi due anni e due minuti sono la stessa cosa. E poi il principe vuole che risolviamo un mistero, giusto? A chi non piacciono i misteri? Beh, credo che abbia ragione. Oh, va bene. Oh, per quel che riguarda l'onorato principe... L'onorario principe, ne parliamo dopo. Se giri, scicure, forza, svegli, ora di mettersi al lavoro. Sono sveglia. Ah, insomma, ma che vuoi, che rottura. Ok, ci pensiamo noi. Al termine dell'indagine vi farò avere un rapporto. Credo che ci farà pochissimo tempo. D'accordo, molte grazie, Detective. C'è qualcosa che non va, giovane signora? No, assolutamente no. Scusatemi principe, non so cosa mi si è preso. Ok, adesso... Ok, sono già partiti per le indagini. Perfetto. Bene, torniamo indietro e vediamo cosa fanno gli altri. Ok. Credo che però in realtà io qua stia sbagliando qualcosa. Sono dell'impressione che io qui stia sbagliando qualcosa. Perché io... Non lo so, boh, vediamo. Potrebbe essere una mia impressione perché ricordo magari male gli eventi. Però credo forse di aver sbagliato qualcosa. Ma nel caso ovviamente ve lo farò sapere. Non c'è problema. Oh, vostra altezza, vi abbiamo cercato dappertutto. Uno dei cavalieri della regina. Cavalieri della regina? Ehi, come va? Kyle, stai bene? Sì, neanche un graffio. Allora, stanno bene anche Lim e Mia Kiss? Sì, a parte il fatto che non possono lasciare le loro stanze. Oh, che sollievo, vero principe? Sì. Beh, ora mi sento molto meglio. Già. E speravo anche di tornare con la principessa alla runa del sole. Ma è impossibile, la sorveglianza è troppo stretta. Poi ho sentito dire in giro che il principe stava mettendo su un esercito e allora sono venuto di persona. Però ho delle ottime notizie sulla runa del sole. Che notizie? Non lasciarci in ciò speso. Parla. Va bene, va bene, ora ci arrivo. Dopo la conquista del palazzo del sole, Giselle ha provato a indossare la runa come la regina, ma non ha funzionato. No? La cosa strana è che però Giselle non sembrava per niente arrabbiato. Beh, non è che dimostri molte emozioni, però ha semplicemente riunito un gruppo di studiosi e da allora sono chiusi nella sala inaccessibile. Ah, non c'è da preoccuparsi, il mistero della runa del sole è molto semplice. Come ben sapete, ho sempre detto che solo la regina legittima può indossare la runa del sole. E avevo ragione. E senza una regina legittima non dobbiamo temere la runa del sole. Ottimo, davvero ottimo. Oh, oh, ora scusatemi, vado molto in fretta. Devo comunicare subito queste notizie al Lord Wilde e al generale Dean. Subito, davvero? Come mai andava così in fretta tutto un tratto? Nostra altezza... Non volevo parlare in presenza di Lord Barrows, ma ho una cosa da dire. Sono desolato, vostra altezza, vi prego, perdonatemi. Avevo detto tutte quelle belle parole quando ci siamo lasciati al palazzo del sole, ma alla fine non sono riuscito a proteggere nessuno. Sua maestà, la principessa, la runa del sole, nessuno. Kyle. È tutto a posto, Kyle. Adesso ci serve ogni alleato possibile. E il morale di tutti quanti andrà alle stelle quando vedranno che un altro cavaliere sia unito a noi. Grazie a tutti. E poi, guarda quante belle ragazze ci sono qua. Credo che questo posto mi potrebbe piacere molto. Questo è il Kyle che conosco. Esatto. Vostra altezza, lasciate che mi unisca la vostra lotta. Insieme a queste stupende signore, ovviamente. Ecco qua. E Kyle adesso effettivamente è stato reclutato ufficialmente. Ok. Fatto tutto ciò... Parliamo un attimo con l'userina. Sì, cambiamo i membri di viaggio. E inseriamo Kyle. Ok. Fatto questo, adesso andiamo a fare qualche altro reclutamento. Allora, non parliamo ancora con gli altri, perché comunque... Cerchiamo di fare un po' di reclutamenti. Anche se io mi sa che ho saltato tutta la parte di Hoboro, ragazzi. Eh sì, purtroppo col fatto che non mi è spuntato prima... È un problema. È davvero un problema. Allora, vediamo se nel frattempo qua c'è qualche miglioramento, ma non credo, perché ancora è troppo presto. Ok, ancora giustamente niente. O si faceva dopo, ma io mi ricordo che si faceva prima sta roba. Allora, dobbiamo uscire da Rainwall. E detto ciò... Allora, dove dovevamo andare? Dovevamo andare... Al villaggio di Hode. Ok, siamo al villaggio di Hode. Perché siamo al villaggio di Hode? Perché adesso, finalmente, possiamo reclutare quella ragazza vestita in rosa, che era qui nel parco, se vi ricordate. Eccola qua. Eh? Eh, cosa? Tu, sì, dico a te. Chi ha confezionato i tuoi abiti? Questi? Li ho disegnati io stessa. Dicendo poi al sarto come volevo che li facesse. Questo è quanto? Tu stessa? Finalmente! Qualcuno con un senso della moda all'altezza del mio raffinatissimo gusto. È da lunga pezza che speravo di un siffatto incontro. Davvero? Io mi chiamo Josephine. Ti riconosco... Io ti riconosco, un talento degno del mio. Consideralo un grande onore. Ma che... Quale sarà la tua prossima meta? Verrò con te. Perché? Dobbiamo restare vicine per essere così l'una per l'altra, fonte di continua e sempre più elevata ispirazione. Ha detto così. Che ne dici? Perché no? Che significa perché no? Certo che per essere uno che si conce in quel modo è un bellardire. Io non ho certo bisogno del permesso di uno come te. Te dico che vengo con voi. Ti conviene tacere e ringraziare il cielo per la tua buona stella. Ok. Abbiamo rilutato anche Josephine. Ed entra direttamente in squadra. Madonna mia. Proprio aggressissima. Però la mettiamo nell'entourage. Lei non mi serve per ora per combattere. Ok. A questo punto, avendo reclutato anche Josephine, possiamo andare indietro. Possiamo andare indietro perché ci sono altri personaggi da reclutare. Sì. E sì. Ragazzi, torniamo indietro. Ok. Siamo tornati alle miniere di Basca, con la nave ovviamente di Log e Loon. Quindi basta che ritorniate a Raftfleet e poi torniate qui. Perché qui adesso dobbiamo reclutare altri due personaggi. Ovvero Egbert, che abbiamo incontrato precedentemente ai giochi sacri, e Takamu. Per prima cosa dobbiamo andare a incontrare Egbert. Ma dove si trova Egbert? Si trova più avanti, quindi non si trova subito qua. Noi adesso qui possiamo guardare. Dovrebbe esserci ancora il castorino lì, che però... Al momento non ci rivolge parola. E qui adesso dobbiamo andare a cercare Egbert. Quindi appena lo trovo, vi dirò che cosa fare. Eccolo qua. Egbert si trova nella... Si trova praticamente dopo l'accampamento dei nani. Quindi nella seconda parte della miniera di Basca. Andando verso la strada della prigione. Però... della prigione d'Agata. Però andando a sinistra anziché a destra. Ok? Quindi mi raccomando, andate sempre verso sinistra. E lo troverete. La cosa importante da fare, in questo caso, per reclutarlo, è farlo parlare a manetta. Anche se praticamente lui ora parlerà per un bel po', io magari faccio un piccolo taglietto. Comunque sia, non interrompetelo mai. Oh, salve, principe Agio. Quanto tempo. I passaggi sotterrani sotto Stonefish sono stati sigillati. Perciò, son finito qui. In qualche modo, questo tipo di posto è congeniale alla mia natura. Mi imbarazza a metterlo, ma tant'è. Oh, sì, altezza. Ecco qua. Ho saputo che ha affrontato quell'urito verme di Godwin. Gli ha dato la lezione che si merita, vero? Ah, che notizia meravigliosa. Ecco qua. Qui adesso, lasciatelo parlare. Ok. Quando appare il tasto per poter saltare il dialogo, andate avanti. Non fatelo prima, come per schippare i dialoghi. Perché altrimenti non si unirà. Ok. Verme, lurido verme. Nessuna pietà per quell'urido verme. La faccia. Gli devono spaccare a quel maledetto. Perfido miserabile malefico demone. Yeah! Completamente impazzito. Ok, vedete che per il momento non appare il tasto. Ecco, ora appare. Ok. Ok, si è sfogato. Non ce la faccio più. Solo se ci penso divento pazzo. Altezza. Mi consenta di arruolarmi nel suo esercito. Devo sconfiggere quell'urido verme di Godwin. Con le mie stesse mani. La giusta punizione divina. Eh? La prego, mi perdoni. Ho per un attimo perso il lume della ragione. Eppure il mio desiderio di arruolarmi nel suo esercito non nasceva solo dalla furia di un momento. La prego, valuti la possibilità di lasciarmi combattere. Ecco qua. E abbiamo fatto amicizia con Egbert. Che devo fare? Ok, unisciti a noi. Allora, Egbert non combatte. Però, esatto, ha l'abilità da supporto Trovapoch. Quindi ci consente di ottenere più soldi alla fine delle battaglie. Quindi tanta, tanta robetta. E adesso abbiamo un'altra persona da reclutare. Però, alla prigione d'Agata. In teoria ne potremmo reclutare due. Ma per il momento ne reclutiamo soltanto una. Eccoci qua. Come potete notare c'è un nuovo personaggio in cella. Ok. Se hai combattimenti casuali. Altezza, c'è un prigioniero qui. Aspetti, sto aprendo. E' aperto. Altezza? Hai detto altezza? Non è possibile. Oh, su Altezza il principe. Che ci fa lei in un posto del genere? Ma prego, mi scusi per i miei modi. Il mio nome è Takamu. Piacere. Per ordine diretto del comandante Feride mi stavo occupando di tracciare una mappa di falena. Il comandante voleva creare e pubblicare delle mappe accurate di cui tutti potessimo servissi. Alla sua morte Godwin decise che le mappe erano segreto militare. Quando espressi la mia volontà di restare fedele alle consegne del comandante, Godwin rispose arrestandomi. Forse è stata l'anima del comandante a portarla a cui altezza. Grazie mille. Abbia prima un attimo di pazienza, la prego. Alcuni oggetti che mi hanno confiscato quando mi hanno chiuso in prigione sono ancora qui, in questa prigione. Servono solo per eseguire rilevamenti topografici e per tracciare mappe. Saranno buttati da qualche parte. Il fatto è che vi ho nascosto l'ultima mappa che ho tracciato, quella più aggiornata. Forse esagero visto che mi ha appena tratto in salvo, ma mi aiuterebbe a trovare la mia mappa per favore. Sono sicuro che potrà essere molto utile anche a lei a altezza. Ok, e lui è entrato al momento in squadra. Non combatte neanche lui, però vedete possiede via di fuga, che è praticamente una sorta di talismano fuga perenne. Quindi veramente veramente buono. Potremmo liberare anche lui. Pare fosse una sala inaccessibile. Dicono che è stato catturato perché nella confusione stava provando a filarsela con la runa del sole. Si chiama chi è lei? O qualcosa del genere. Stavo giusto esaminando il busto che sigilla la runa di sole. Che dia... Come diavolo hai fatto da perirla? Bah, un gioco da ragazzi per me. Me la stavo prendendo comoda perché questa segreta è circondata da un fiume. Che dia... Lasciamo perdere. Hai detto che sei un principe, vero? Allora sarebbe certo rispondere a questa domanda. Come è arrivato qui il busto che sigilla la runa di sole? Capisco, non lo sai, vero? Chiedo scusa. Allora, chi lei l'avremmo potuto liberare anche dopo, in realtà. In realtà potevo farlo dopo, ma... Semplicemente bisognava avere Lorelai nel gruppo per assistere ad una scenetta in più. Cioè un dialogo in più, ma non è niente di che. Sinceramente, in realtà. Ehi, dove pensi di andare? Vi siete intrupolati scavando un tunnel, giusto? Ora lo userò per andarmene, se non vi dispiace. Come fai a saperlo? Hai le scarpe sporche di fango. Ok, torniamo indietro. Credo che questa sia la stanza dove conservassero gli oggetti confiscati ai prigionieri. E questo buco che cos'è? L'ha scavato un nano. È da lì che su altezza è riuscito a intrufolarsi qua dentro. Wow, stupefacente. Non perdiamo tempo, dobbiamo sbrigarci a trovare le tue cose. Certo, certo, scusa. Grazie per il tuo aiuto. Ho trovato la mia mappa. L'ha trovata. Ecco, tenga. Ok, mappa di falena. Questa è la mappa di falena più accurata che sia mai stata tracciata. Ne faccio a buon uso. Sono però sicuro che lo sconto tra su altezza e godwin cambierà la faccia stessa del nostro paese. Il mio compito non è ancora finito. Mi piacerebbe poter continuare la missione assegnatemi dal comandante Ferid e completarla per lei, altezza. Sarà per me un onore servirla, mio principe. E qui abbiamo reclutato anche Takamu. Perfetto. Una volta fatto questo, possiamo tornare indietro. Ora, se io per esempio dovessi utilizzare le abilità... Ecco, usabilità. Io dovrei poter utilizzare... No, non me la fa utilizzare. Porca miseria, pensavo la potessi utilizzare. Ah no, non me la fa usare qua la pergamena di fuga. E vabbè, rip. Come non detto. Allora, torniamo indietro. Ok, siamo tornati a Rainwall. E come potete vedere la mappa adesso è molto più dettagliata. Perché appunto Takamu ci ha dato la sua versione aggiornata della mappa. Tutta più con il fiume, tutti i sentieri, le città evidenziate. Quindi un po' più seria, no? Una mappa un po' più seria. Ok, ci siamo. Mi sa che forse parte la side quest di Oboro. Perché dovevo aspettare l'uomo ubriaco della locanda che apparisse. E ci siamo. E ci siamo. Allora. Ma che volete da me? Eh? Ma come sei vestito? Non so da dove vieni, ragazzo. Ma è inutile che fai finta di essere un principe. Ok, parliamoci ancora. Lasciatemi in pace. Vediamo se mi dice qualcos'altro. No. Ok. Adesso usciamo. Ecco qua. Ehi, principe. Lasciate perdere. Sicure? Avete affidato a noi l'incarico, quindi ci pensiamo noi. Che vuoi dire? Stiamo indagando su quell'ubriaco. Si chiama Norden. Era il vicecapitano della guarnigione dei Barrows durante la rivolta a Lord Lake. Vedete? Adesso stiamo dando praticamente una mano all'investigazione. Si è assunto la colpa e ha dato le dimissioni dopo che non era riuscito a fermare la rivolta. Quello là? Sta uscendo, nascondiamoci. Ah, d'accordo. Eh? Cosa? Dannazione. Ecco qua. Ora, qui dovete fare molta attenzione alle risposte. Perché in base alle risposte qui la sidequest proseguirà oppure no. Cioè, proseguirà con o senza di voli. Lo scofiguro. Che è esattamente lo stesso di quello che c'è là sotto. Però... Vabbè. Chi era quel tizio che lo seguiva? È una sentinella. Una vera scocciatura. Lo seguo. Ok. E qui adesso dobbiamo rispondere noi. Alexa? Stop. Scusatemi, ma ho Alexa che mi interrompe. E qui dovete rispondere vengo anch'io. Eh? Come? Facciamo in fretto. Lo perdiamo. Già. Anche pensare è una bella scocciatura. Fate come vi pare. Ok. E loro qui adesso sono entrati in squadra. E il problema è che ora averli in squadra devo sostituire qualcuno. Probabilmente togliamo Cornelio. Guardate che livello sono, tra l'altro. 30 e 35. Eh. Altissimi. Però. Ce li teniamo nell'entourage. Cioè non li vogliamo nel party. Perché così almeno aumentiamo di livello noi. E andiamo. Seguiamo l'uomo. Che dovrebbe essere andato di qua forse. Oddio non mi ricordo ora dove era andato. Doveva essere forse da questo lato. Vediamo se mi ricordo bene perché in realtà non me lo ricordo. Forse devo scendere. Non devo andare di qua. E che non vorrei diventasse troppo lunga sta puntata. Però ormai la devo fare questo. Ormai mi tocca. Ecco qua. Alt. Di che cosa che parlavate tu? Il principe? Non ti sarei fatto scappare qualcosa, vero? Principe? Ero stato un ragazzino in maschera. Bah. Fa niente. Credo che tu lo sappia. Ma ti voglio rinfrescare la memoria. Vivrei molto più a lungo se stai zitto. Sei finito. Levati di mezzo. Mi stai riminando la sbornia. Attento a non esagerare. Se ti metto a spiffrare qualcosa mentre sei ubriaco, per te è finita. Ho detto di levarti di mezzo. Oh, che paura. Ci vediamo dopo. Ok. Maledetto. Ok. Eh già, una vera scocciatura. Ora dobbiamo seguire anche l'altro tizio. No, non sarà necessario. Eccolo. Detectivo Boro? Ma guarda, su altezza è Leon. Non dobbiamo seguire quell'uomo? Non c'è bisogno. So come scoprire cosa sta facendo. Bene. Allora posso andare a dormire? Ovviamente no. Stai ancora lavorando. Eh già. Possiamo continuare a lavorare, eh? Cosa volete fare vostra altezza? Ecco qua. Un'altra risposta. Potrei dire pensateci voi. In realtà vorrei restare fino alla fine. Ma perché dovete ficcare il naso in una situazione del genere? Beh, il lavoro ce l'ha dato sua maestà. Se volete dire anche lui ne ha tutto il diritto. E anche Oboro è entrato in squadra. Solo che Oboro non combatte. Quindi lui deve necessariamente essere messo qui. Per cui per ora togliamo Takamu e inseriamo Oboro. Torniamo in strada. Ok. A questo punto dobbiamo salire. Ecco qua. Topolino. Squit. Ben fatto. Un topo? Squit, squit. Hai già capito? Incredibile. Squit. Ecco. Il topo di Oboro praticamente, sì. Seguiamolo. Ok. Benissimo. Continuiamo a salire. Forse di qua. Eh, ecco sì. Squit. Ben fatto. Capisco. La dimora di Burrows. Ti pareva. Come? Questo topo è uno dei miei migliori collaboratori. Ha seguito l'uomo che stava minacciando Norden. Cosa? Ecco, qua state attento. Perché potreste rispondere quel topo. In realtà no. Dobbiamo cercare di mantenere il focus sulla nostra operazione. Quell'uomo si trova là dentro? Esatto. Dobbiamo pensare alla prossima mossa. Torniamo un attimo in ufficio. Ok. E adesso possiamo tornare all'agenzia. Eh, ragazzi. Qui le risposte sono sempre importanti. O almeno con questi personaggi che vengono reclutati in questo modo. Le risposte sono fondamentali. Se noi avessimo parlato con Lucrezia dopo il reclutamento di Kyle, avremmo perso tutto ciò. Quindi è importante averlo fatto. Capisco. Quell'uomo è minacciato Norden affinché non dicesse nulla. E fa avanti e indietro dalla rimora di Burrows, giusto? Che significa? Deve sapere qualcosa di molto segreto su Lord Burrows. Per questo vogliono metterlo a tacere. Almeno così sembra. Questo segreto deve avere a che fare con la rivolta di Lord Lake. Se perciò riuscissimo a parlare con Norden, il lavoro sarebbe praticamente finito. Beh, sì. Vostra Altezza, ve lo chiedo di nuovo. Cosa volete fare? In fondo questa è la nostra responsabilità. Lasciate che ci pensiamo noi. Vi faremo avere un rapporto completo quando sarà tutto finito. Ecco, qui fate attenzione all'ultima risposta fondamentale. Non posso andarmene proprio ora. Anch'io. Sapevo che lo avreste detto. Se però volete venire con noi, dovete cambiarvi d'abito. Non possiamo permettere che la casata di Burrows sappia che Sua Altezza sta indagando sulla rivolta di Lord Lake. Vedete, Oboro in questo caso sta prendendo simpatia nei nostri confronti perché stiamo rimanendo fino alla fine. Se invece ce ne fossimo fregati, praticamente non avrebbe avuto interesse e quindi l'avremmo dovuto reclutare poi in maniera più ossessiva. Perfetto. Ora non sembrate più il principe né un cavaliere della regina. In addestramento... Niente. Bah, che scocciatura. Allora, chi sarebbero quegli sporchi mocciosi? Il principe è Leon. Eh, cosa? Davvero? Eh già. Shigure, e tu saresti un detective? Matachi. Ora basta, quel tizio è di nuovo andato a bere. Davvero? Andiamo a parlare con lui. Ok. E' arrivato il momento X. Ok. Adesso ritorniamo alla locanda e andiamo a parlare nuovamente con il tizio ubriaco. Eccolo là. Eh, 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 tu? Non vuoi essere... Qua potremmo... E' buona la roba che bevi, ma ovviamente non è la risposta esatta. Qui la risposta è giusta e ti prego, dobbiamo parlarti, ovviamente. Io non ci parlo con i ragazzini. Smamma. Non dire così, ti prego. Dacci solo un momento del tuo tempo. Vorremmo parlare di Lord Lake. Oh, cosa? Chi sei? Chi sono? Ecco chi sono. Oh. Cos'è questo pezzo di carta? Non lo sai? Si chiama biglietto da visita. Comunque, dagli un'occhiata e ti dirai chi sono. Cosa? Un detective? Io non so niente. Vattene. Oh, io invece credo che tu sappia molte cose. Ho detto Lord Lake. Lord Lake. Non dire quel nome ad alta voce. Hai paura che qualcuna che lavora per la casata dei Burroughs possa sentire? Tu. Preferisci andare da qualche altra parte? D'accordo. Andiamo nel mio ufficio. Perfetto. Anche Norden è entrato in squadra e purtroppo anche lui è praticamente uno che non combatte e dobbiamo portarcelo per forza al momento. Quindi, torniamo indietro. Eh, lo so ragazzi, è lunga. È un po' lunga questa cosa. Però ci tenevo a farla tutta in una volta perché era giusto. Quindi questo sarà un macro episodio tutto di reclutamenti e roba strana che ci può stare alla fine in un gioco come Shui Koden. Bentornato a vostra altezza, detective. Questo deve essere Norden, giusto? Esatto. Io non dirò niente. Come no? Io invece credo che staresti molto meglio se parlassi. Che vuoi fare? Torturarmi? Vuoi che lo faccia? Mi dispiace deluderti, ma non usiamo delle tecniche così barbare. Sagiri? Shigure? Preparate la barca per la partenza. Ok. Che scocciatura. È un po' Shikamaru Shigure praticamente. Dove volete portarmi? Vostra altezza, dove volete che lo portiamo? Ecco qui. Qui facciamo... Non saprei proprio che non è la risposta esatta. La risposta esatta è lo portiamo là? Vedere per credere, giusto? Andiamo. Qual è il porco traditore? Eh, se ne sono accorti. Eccoci qua. Siamo praticamente alla banchina di Lord Lake. E dobbiamo andare a Lord Lake. Quindi, usciamo. Andiamo praticamente... Cioè, scendiamo praticamente tutta la costa, come l'altra volta. E torniamo a Lord Lake. Eccoci qua. E' la prima volta che vieni qua dopo i fatti di due anni fa, vero? Guarda, non è uno spettacolo orrendo? Oh no. Non potete farmi questo. Non è colpa mia. Tu sei bene quanto è serio il tuo crimine. Per questo ti rifiuti di parlare e ti ubriachi per scoddare il passato, giusto? Cosa volete che faccia? E' terribile. Lo sai cosa devi fare, vero? Devi espiare le tue colpe. Non potrai più vivere. E' spiare le tue colpe? Davvero? La decisione non spetta a noi, ma alla gente che soffre a causa dei tuoi crimini. Se rifiuti di fare ammenda, il tuo senso di colpa non farà altro che aumentare. Io... Devo pensarci. Insomma, ancora pensi che... Sicura. Per ora basta così. Torniamo indietro. Ok. E adesso possiamo tornare indietro. Adesso... Torniamo indietro. Aspettate, brutti ceffi. Eh già. Siamo stati beccati. E questi chi sono? Soldati che lavorano per i Burrows. Che stanno facendo? Eccoli, maledetti agenti dei Godwin. Ma che... Vi abbiamo visto mentre vi aggiravate dalle parti della dimora dei Burrows. Arrendetevi. Siamo arrivati a questo? Che facciamo? Eh, qui ovviamente dovremmo combattere. Va bene. Uffa, che scocciatura. Allora volete combattere? Non avremo alcuna pietà. Eh sì, qui arrendersi non è la soluzione giusta. Ecco qui. E come notate, tutti i personaggi hanno gli abiti, diciamo, casual. Non sono avvertiti ufficiali. Anche Kyle addirittura. Qui abbiamo tanti attacchi, diciamo, AOE. Per cui approfittiamone di questa cosa. Quindi facciamo tanti danni AOE. Boom! Finalmente, avendo, diciamo, le rune AOE, abbiamo modo di velocizzare un po'. Olè! Allora, medicina in realtà la portiamo. Anzi no. Prendiamo mega medicina qua. Vabbè, sì, va bene così, dai. Andiamo. Dannazione. Bene. È finita. Andiamocene per adesso. Sono sicuro che stanno arrivando rinforzi. Dannazione. Per un momento mi ero preoccupato davvero. Scusate, è colpa mia. Non preoccuparti, è il nostro lavoro, ci siamo abituati. Abituando perché ci abbiano attaccato così all'improvviso. Credo che i Burrows erano pronti a lasciar perdere Norden perché credevano che non aveva il coraggio di parlare. Quando però abbiamo iniziato a stargli addosso, si sono sentiti in pericolo. E allora hanno deciso di metterlo a tacere per sempre, giusto? Tipico della casata dei Burrows. Vostra altezza, vogliate perdonare il mio comportamento. Vi dirò tutto quello che volete sapere sulla rivolta di Lord Lake. Norden. Però, mi serve del tempo per riprendermi. Vi sembrerà una richiesta assurda, ma vi prego, scusatemi. E' tutto a posto, Norden. Sono lieto che tu abbia deciso di parlare. Vostra altezza, al resto ci pensiamo noi. Dovremmo tenere nascosto Norden per un po', per tenerlo al sicuro, ma non c'è da preoccuparsi. Vi verremo a trovare per svelarvi la verità, vostra altezza. Sagiri ha lasciato la squadra, Shigure e Oboro hanno lasciato la squadra. Anche Norden, quindi ora siamo ritornati praticamente tutti quelli di prima. Ecco, e siamo praticamente tornati a Raftfleet. Ora che siamo tornati a Raftfleet, non ci sono qua personaggi da reclutare in realtà per il momento, perché il sale non è aumentato. E il rezzo ancora no. Purtroppo ancora non siamo a quel livello. Beh, controlliamo. Il raccolto del grano è stato eccezionale. Niente, purtroppo l'RNG qua ci dà una sfiga pazzesca. E detto ciò, possiamo tornare indietro, ma prima di tornare indietro vi devo far vedere una cosa e poi stacco la puntata. Piccola cosa che non vi avevo detto. Dopo la battaglia navale, Murad, il medico, si troverà a Raftfleet. Però anche se ci parlate, non lo recluterete per il momento. Quindi ci parlate, gli proponete di reclutarlo, ma lui ovviamente rifiuterà. Ecco cosa volevo farvi vedere. Finalmente potrete accedere alla grande buca. Fatelo. Appena avrete la possibilità, fatelo. Percorrete tutto il percorso e incontrerete dei personaggi. Parlateci e poi ci potrete riparlare in seguito. Tutto qua. Io adesso lo faccio, vi farò vedere i personaggi in questione e poi staccheremo. Ecco qua. Dopo aver percorso praticamente tutta la sezione del grande buco, troverete questi due personaggi. Ehi, maestro Levi, per quanto ancora devo continuare a scavare? Non affliggerti per nulla. Vuoi o non vuoi vedere in azione le mie abilità, Bergen? Ma certo capo, potrei rimanere a guardare la vostra sapienza magica all'infinito. E allora continuo a scavare. Ti mostrerò altri portenti magici quando troverai la sfera. Urrà, allora mi metto a scavare subito. Parliamoci. Siete venuti fin qui? Vuol dire che siete un gruppo di giovani molto speciali. Volete apprendere i segreti del grande maestro della magia runica? Ha ragione, ha dei poteri magici incredibili. Proprio l'altro giorno ha creato un buco enorme nel terreno così, come se niente fosse. Non ho mai visto un mago come lui, davvero. Bergen, quante volte te lo devo dire, io non sono un mago. Io sono uno studioso di magia runica. La magia runica ci permette di intravedere il grandioso disegno del mondo. Non voglio essere considerato un brutto come te, che ritieni che la magia runica sia solo un utile strumento. Questa non l'ho proprio capita, capo. Questo vale anche per te. Mai sottovalutare l'importanza della magia runica. Ci riparliamo? Che c'è allora? Non puoi diventare uno studente del maestro Levi, ci sono già io. Vuoi unirti a noi? Unirmi a voi? Come amici? Beh, è un'idea interessante. Però dovete avere qualche informazione particolare sulla magia runica che puoi condividere con me. In caso contrario, mi spiace, ma non vi seguirò. Ok. E questo era ciò che mi interessava sapere al momento. Quindi, utilizziamo una pergamena della fuga. Così possiamo tornare direttamente indietro, senza rifarmi tutto lo sbattimento. E possiamo finalmente ritornare a Rainwall. Io andrò a potenziare adesso tutti quanti gli altri personaggi che non ho ancora potenziato, come armi, equipaggiamenti, eccetera. E poi la prossima volta, finalmente, potremo andare avanti con la trama. Sono contento di aver recuperato la side quest di Oboro. Così lo recluteremo in maniera molto più facile nella parte successiva del gioco. Quindi il suo reclutamento diventerà più facile. E poi continueremo come abbiamo sempre fatto. Quindi entriamo a Rainwall, salviamo e noi poi ci vediamo alla prossima. Quindi grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.